Vi presento il nostro nuovo sovrapposto B725, è stato lanciato all'inizio di quest'anno sul mercato europeo, esiste in versione CACCHA, eccolo, Cana 71, Cana 76 e 66, esiste in versione percorso di calcio. Iniziando dal calcio, il nostro nuovo calciolo Inflex 2 permette, quando il tiratore spara, di abbassare, allontanare il calcio dal viso del tiratore per evitare di urto, pur mantenendo la cana idrita. Viene consegnato con 3 calcioli diversi, 25, 20 e 12 mm di spessore. Lo scatto del B725 è stato totalmente rivisto, ormai abbiamo uno scatto meccanico. La bascula è stata ribassata di 4 mm, quindi la linea è un po' cambiata, anche se si riconosce il B525. La Cana è un vero sistema ormai, composta di 3 parti diversi. Il cono di raccorda è stato allungato, un lungo cono di raccorda consente di sparare delle palline d'acciaio con meno rinculo, poi c'è un attrito sui pallini, quindi le rosate sono migliorate. La Cana è backborder, cioè sono realizzata di 180 mm e i nostri strossatori sono stati totalmente ripensati e rivisti. Chiamano strossatori di essa. Questi strossatori in sostanza sono, possiamo dire, strossatori stagno, nel senso che la filetatura è al vivo di volata, è qui, e il fatto che lo strossatore sia stagno consente alla filetatura di essere sempre pulita.